Ciao a tutti amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Saluto a tutti da Max, torniamo in Amici 23 perché l'allievo praticamente non ce la fa più, se ne vuole andare forse questa sarebbe la via più facile da poter prendere, ma non deve assolutamente essere così. Prefazione, anche nella nuova edizione di questo talent show i momenti duri, soprattutto per chi sta seguendo il programma, si sa, non mancano mai. Nei giorni scorsi era stato ad esempio Holly Francisco a creare un gran bel polverone, perché l'allievo rivolgendosi ad un suo compagno aveva detto «A Rudy Zerbi facce no mazza tant». Cioè, ci siamo capiti insomma. Ovviamente la cosa è venuta fuori ed è stato mostrato il video con l'espressione abbastanza infelice, ma Francisco ha chiesto scusa, insomma ha riconosciuto il suo errore, ma la figura barbina è rimasta e non è stata molto bella. Il rapporto tra allievi e insegnanti, comunque, è problematico anche in altre occasioni. Ad esempio è successo che Gaia sia scoppiata in lacrime a causa di Alessandra Celentano. La maestra ha chiesto all'allieva di mettere in risalto le sue forme attraverso abiti adatti e la giovane è crollata. C'è voluta Maria per riuscire a calmarla. Adesso, però, c'è un altro caso che riguarda un cantante che ha manifestato l'intenzione di andarsene perché non si trova a suo agio nella scuola. A voler andare via è Ezio, il cantautore di 20 anni nella squadra di Anna Pettinelli. Il giovane si è sfogato con Holden, alla base del suo malessere ci sono le parole che gli ha rivolto Rudy Zerbi, me ne voglio andare. Non è il posto per me. Le parole dell'allievo non è il posto dove mi posso sentire me stesso. Poi spiega, ho fatto male a non rispondergli. Non hai personalità, mi ha detto Rudy. Il compagno gli fa, ma c'ha ragione? Ed Ezio ribatte, no. A quel punto Holden ha spiegato al compagno che non è il caso che se ne vada e che anzi dovrebbe dimostrare coi fatti che Rudy Zerbi si sbaglia. Ezio, però, sembra intenzionato a lasciare la scuola, non glielo dimostri così perché lui dice il per me non lo sei e basta. Lo dimostro da fuori. In realtà dietro il malessere del giovane ci sarebbe anche altro come lui stesso ha spiegato agli altri allievi in un momento di confronto nella casetta. Secondo me in un contesto del genere, ha spiegato agli altri compagni Ezio, non c'è tanta sincerità e quindi c'è una parte di falsità in ognuno di noi. Subito gli rispondono in tre. Lil Jolie dice io non sono d'accordo. Matthew conferma Ninci, io sono d'accordo e poi mi dà ferma. C'è gente che è molto genuina in questo posto. Ezio aggiunge poi che invece con Gaia si trova a suo agio, ma in generale il suo stato d'animo non è dei migliori. Anna Pettinelli ha messo il giovane di fronte ad un bivio. Deve decidere se restare e accettare la situazione oppure andare via. L'allievo non ha ancora deciso, ma intanto sui social c'è chi vorrebbe clicca al suo posto.